Va bene l'accordo per le primarie, però non vogliamo che dentro questo perimetro delle primarie, questo accordo politico, ci siano anche quelli che hanno sostenuto e governato con Bitonci. È una cosa che lanciamo al PD, questa è la nostra posizione, sentiamo cosa ci dice e poi noi riporteremo quello che il PD ci dirà all'Assemblea. Così ha deciso l'Assemblea di Coalizione Civica, che ieri sera ha riunito circa 300 iscritti al Cinema MPX a Padova. Di fatto è stata arredata una lista nel quale si dettano le regole al centro-sinistra per correre alle prossime amministrative, quasi a voler scaricare la responsabilità al PD. Ma gli esponenti del movimento si dicono anche pronti a cambiamenti o eccezioni, purché vengano sempre approvate poi dall'Assemblea. Insomma, una storia che non è per niente conclusa, anzi, si dovranno aggiungere capitoli ed una saga che sembra diventare infinita e che rischia di rivoltarsi contro, ricalcando il copione del 2014. Quello che è successo nel 2014 è passato. Chi pensa ancora che siamo in quella fase sta facendo un grave errore. La fase è cambiata. Ieri abbiamo deciso che vogliamo andare uniti con tutto il centro-sinistra per battere Massimo Bitonci. Non siamo Padova 2020, precisano, ma allo stesso tempo Coalizione Civica chiede di individuare il perimetro del campo da gioco, ovvero chi farà parte o no del fronte anti-Bitonci. Ma se si tira troppo la corda, il rischio è quello di presentare un centro-sinistra diviso anziché unito. Crediamo che sia, innanzitutto, per prima cosa importante, aggregare le forze centro-sinistra. Poi, insieme, in maniera equa, valuteremo se e chi allargare il campo. Sabato, intanto, è previsto alla Fornace Carotto un incontro dei tre candidati di Coalizione Civica, Lorenzoni, Curi e Rizzetto, che si sfideranno domenica nelle primarie interne del Movimento. Si voterà dalle 10 alle 21 alla Casana, in zona Brusegana, e potranno partecipare i circa 1.400 iscritti, residenti o domiciliati a Padova.